Mus come ne come a tutti ragazzi io sono Sharknando e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo la parte 2 di Super Mario Bros. Wonder La serie completa perché ci saranno tutti i livelli che farò e tutto Quindi il musical delle piante piragna Ehm ok Iniziamo Dai ho paura perché già quelle le odio Guardala la Ma C'è qualcosa che mi sono perso Da quando esiste Toad di fuoco? Ma da quando? C'è fino adesso non è mai Oh Io posso ucciderla Sì ok perfetto Ok meglio Allora Quello che c'era qui Eccola Ma sul retro ci sono altre cose come faccio a Non mi dire che è con questo Ok Ma come faccio ad entrare dentro i tubi? C'è qualcosa che mi sono perso Aiuto Aiuto Infame Ehm Ok Ah Bene perfetto Sì ma come faccio? Ma forse è con questo No vabbè raga Ma non è Aspetta però non è che vedo tantissimo Che bello ancora il fuoco Oh Oh Ah aiuto Ok E Monete Ok Yeah Non vedo niente con quell'albero Però Però adesso abbiamo preso Una delle stelle Ce ne sono tre in questo livello E noi abbiamo preso la prima Oh Oh Quindi si può andare laggiù Ma dai Per te Ho fatto prima Vabbè Aspetta si può fare È un mondo strano Lo so Non è colpa mia Ma che Ok Mi sto cominciando a spaventarmi Che cosa sta succedendo in sto mondo? Super Mario non era così Lo sapevo Non ci No Oh Oh Sì 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 Che adesso ho paura di cosa sta succedendo Cos'è? No Non è vero Non è No E allora? Che Che Wow No No Ma fanno comunque danno No Dai l'ho preso Godo Aiuto Ah Aiuto Vi voglio non rapinare Sì Grazie Sì Che bello Hai ottenuto un seme meraviglia Eh Ah Ecco Wow Beh è stato interessante No Non lo è affatto Questo sembra un delirio Monete Monete Sì Meraviglioso Ye Ah ecco dov'era la seconda Oggi muoio Troppo bello Beh spero che il video vi sia piaciuto E ciao Anzi Mascomene Geo